Quello di cui c'è bisogno è sicuramente un'accelerazione fortissima della campagna vaccinata. Io quei dati, quelle simulazioni che vi ho mostrato, molto rapidamente, si basano su un'assunzione di 240.000 vaccinazioni al giorno. Se riuscissimo a farne 300.000 al giorno, se riuscissimo a farne 350.000 al giorno, a dare un'accelerazione al piano, noi riusciremmo naturalmente a vaccinare tante categorie di popolazione o a prescindere dalla categoria di popolazione, tante persone entro un breve tempo, che sarebbe davvero una cosa importante. Anche perché nel momento in cui noi chiediamo dei sacrifici alle persone, dobbiamo dare anche una speranza. E' chiaro che se noi facessimo solo contenimento, non daremmo la speranza ai cittadini. Allo stesso tempo, se vaccinassimo senza contenere, non riusciremo probabilmente a portare a termine una campagna vaccinale di successo, contenendo e mitigando l'allumento dell'epidemia. Però, dimostrando grande capacità di vaccinazione, invece, può dare, come dire, la speranza ai cittadini che si devono sacrificare oggi per ottenere un risultato domani.